Non ha il disincanto di chi racconta la cronaca dei fatti, né quello teorico di chi studia scientificamente i comportamenti delle masse. Un pastore di anime guarda le persone con gli occhi del cuore, perché così faceva Gesù con la gente del suo tempo. All'Angelus Papa Francesco si è ispirato come sempre al Vangelo del Giorno, che ha proposto l'immagine di Cristo commosso dalla folla che non smetteva di seguirlo e ascoltarlo, per ribadire i tre verbi propri di ogni vescovo e sacerdote, vedere, avere compassione, insegnare. Il primo e il secondo, vedere e avere compassione, sono sempre associati nell'atteggiamento di Gesù. Infatti il suo sguardo non è lo sguardo di un sociologo o di un fotoreporter, perché gli guarda sempre con gli occhi del cuore. Questi due verbi, vedere e avere compassione, configurano Gesù come buon pastore. Anche la sua compassione non è solamente un sentimento umano, ma è la commosione del Messia in cui si è fatta carne la tenerezza di Dio. Papa Francesco ha poi ricordato i giorni del recente viaggio apostolico in Ecuador, Bolivia e Paraguay, ringraziando per il calore dell'accoglienza ricevuta e riaffermando che nonostante gravi problemi socio-economici, il continente latino-americano ha grandi potenzialità umane e spirituali, grazie ai valori cristiani profondamente radicati al suo interno.